La conferenza dei servizi si è aggiornata al 31 gennaio. Entro quella data le amministrazioni devono esprimere il parere sul progetto definitivo oggetto dei lavori della conferenza dei servizi. Tra l'altro alcune istituzioni hanno già preannunciato il loro orientamento che verrà poi formalizzato nei prossimi giorni. Il rappresentante dello Stato italiano ha espresso un parere positivo con prescrizioni e l'ha fatto anche verbalizzare. Ripeto, poi verrà formalizzato con una nota specifica nei prossimi giorni. Tutte le altre istituzioni si dovranno esprimere entro il 31 gennaio. Manca ancora la certezza sulla procedura urbanistica che è in capo al Comune di Roma Capitale. È una questione che noi abbiamo ricordato spesso. Il tempo sta per scadere, quindi entro il 31 gennaio il Comune di Roma Capitale dovrà formalmente produrre degli atti per dare certezza della procedura urbanistica che intende seguire sulla vicenda del progetto legato allo Stato della Roma. Quindi lei si aspetta che entro il 31 venga votata la variante? Non lo so. È chiaro che se non ci saranno atti questo pregiudicherà il lavoro futuro della conferenza. Le valutazioni, ogni valutazione adesso è inutile perché ovviamente i rappresentanti del Comune, anche se conferenza, hanno confermato la loro disponibilità a produrre questi atti. Quindi noi non possiamo che tenere in considerazione il parere che gli uffici hanno espresso nella conferenza. La rubatura è una strada percorribile oppure no? Noi non ragioniamo sulle ipotesi, voi siete giornalisti, però la conferenza di servizi si basa sugli atti di governo, sugli atti amministrativi che sono di competenza delle giunte e dei consigli comunali, non sugli articoli dei giornali, mi scuso, voi siete dei giornalisti, però noi dobbiamo basarci sugli atti ufficiali. Per ora non c'è alcun atto ufficiale che riguarda questi aspetti. Quando ci saranno li valuteremo, li valuteranno gli uffici, li valuteremo anche noi. Ma c'è la possibilità di uno stop alla conferenza di servizi se dovessero arrivare questi atti che magari il Comune dovrà presentare? Se non arrivano questi atti, se non succede nulla da qui al 31 di gennaio, è chiaro che la conferenza di servizi non può andare avanti.